Il via libera alla ripresa dei lavori di ampliamento dell'aeroporto Salerno-Costa da Malfi è stato accolto con grande soddisfazione anche da Andrea Prete. Il presidente di Confindustria Salerno, intervistato dal direttore Pierluigi Melillo nel corso dell'approfondimento Punto di Vista, ha rimarcato i benefici che potrebbe garantire questa infrastruttura all'economia dell'intera regione Campania. Avremo l'occasione di avere un'infrastruttura che insieme a quella di Capodichino darà alla regione Campania, una regione di 6 milioni di abitanti, due aeroporti che assolutamente possono soddisfare le esigenze del territorio e di coloro che ci vengono a trovare. Noi abbiamo avuto a Napoli quest'anno un calo, in questo momento, quindi a questi giorni, alla settimana scorsa, abbiamo avuto 2 milioni e mezzo di passeggeri contro i 9 milioni dell'anno scorso. Questi sono i numeri. Abbiamo avuto 1 milione e mezzo di stranieri contro i 6 milioni e mezzo dell'anno scorso. Per Prete, però, è necessario proseguire spediti verso il traguardo, evitando nuovi rallentamenti, come è accaduto per il ricorso che ha bloccato i lavori negli ultimi mesi. In questa Italia, dove ancora è consentito che uno alza il ditino e blocca un'infrastruttura strategica per il territorio, io vorrei dire che non si tratta di una finestra abusiva, di un palazzo, era un'infrastruttura, ed è un'infrastruttura strategica per un territorio, e quindi quel ricorso al TAR, che poi ha avuto l'esito che ha avuto in Consiglio di Stato, ha rallentato per 9 mesi.